Ciao a tutti, Piccettino non è potuto venire perché sta ancora festeggiando con i parenti, non ho ben capito che festa c'è, e quindi abbiamo T-Rex, eccolo qui, ciao! Sì, è venuto T-Rex oggi. T-Rex ci fa da apripista per questo volume uscito il 31 di ottobre per Halloween o per altri durante Lucca, che è l'Old Boy, Old Boy di Dylan Dog, eccolo qui. Siamo arrivati ormai al numero 37, quindi è un numero che comincia ad essere importante. L'Old Boy è la pubblicazione che nella nuova divisione di Landoghiana, nell'universo di Landoghiano, dovrebbe ridarci le atmosfere e il Dylan più classico, quindi il Dylan frezzato nella sua Londra milanesata degli anni Ottanta. Quindi il Dylan più sclaviano, almeno come contesto, ma anche come contenuto. Partiamo, tre storie e tre, 292 pagine, 7,90 euro, è un bel matrumbone come potete vedere, è una bella lettura, si lascia anche apprezzare nella sua corposità, quindi è una delle quali pubblicazioni ti ha soddisfazione a tenere in mano, ma che bella corposa come piace a noi, ma soprattutto tre storie e tre. Prima di tutto, copertina. Copertina a quattro mani, Raul e Gianluca Cestaro. Copertina che omaggia Halloween. In un certo senso questo Maxi omaggia sempre Halloween. Ricordate la trilogia western, eccetera, quindi anche qui copertina è prima storia halloweeniana. È un Dylan molto interessante, si vede poco, ma è molto carino. I ragazzetti sono inquietantissimi. Soprattutto, vi dico la verità, mi inquieta quello con il coltello in testa, perché c'è proprio il coltello nascosto. Mentre il cappio in realtà non mi fa molta paura. E se non l'attacchi a qualche parte non serve a niente. La mannaia così, con questa mascherina, sembra quasi finto. Questo coltello invece mi terrorizza di più. Quindi è una bella copertina. Notare anche i giochi di luce, i richiami ad Halloween e le ombre dei ragazzini. Quindi è molto molto bella. È una copertina a tre mani, anzi a sei mani, scusate. Ah sì, a sei mani, a quattro mani, sono due a testa. Mi piacerebbe magari capire dai Cestaro, prima o poi, come funziona lo sviluppo di una copertina in coppia. Cioè mi incuriosisce molto. Magari un domani, chissà, poter parlare con uno o con tutti e due per capire come funziona questo lavoro di coppia. Comunque, copertina fantastica. Per certi versi, richiama un pochetto più lo stile cavenagliano che abbiamo imparato ad apprezzare nei vecchi old boy, quando ha sostituito Stano. Quindi c'è una sorta di continuità pur dando la propria impronta. Mi piace. Dicevamo, tre storie tre. Vabbè, innanzitutto abbiamo il solito editoriale recchioniano, tutto tutto niente niente, come diceva qualcuno. C'è nel senso bello finché vuoi, chiacchierata a ruota libera, dichiarato omaggio ad Halloween. Quindi d'ora in poi Halloween è fisso in questo periodo. Andiamo avanti. Allora, prima storia. Halloween a Northwood, ovviamente. Giovanni Ecker, al soggetto di sceneggiatura, disegni Fabrizio Desdorides. Non so come si pronuncia giusto. Ti chiedo scusa. Quindi è la storia dedicata, effettivamente, ad Halloween. È una storia tutto in una notte. È una storia bella, con disegni molto d'atmosfera, con... guardate che figa questo gruccio. Con i disegni cupi, scuri, romantici. Con un Dylan anche un po' scazzucchiato, oserei dire. Anche ringiovanito. Ci sta, è un Dylan quasi un po' scazzato. È bello da vedere, no? Poi accetta di uscire con il suo classico, la sua classica Miz. Questa scena mi ha ricordato un po' oltre la morte, quando esce senza niente, con la giacca e basta sotto la neve. Ecco, queste cose. Mi piace, cioè, è proprio una cosa bella. Blocco espressivo come non mai, Jenkins ringiovanito rispetto alla regolare, quindi niente basettoni bianchi. La ragazza del mese è molto carina e si presta benissimo all'avventura, diciamo. Ed è un misto, cioè, diciamo che i disegni sono belli. Belli anche le maschere e tutto. Insomma, The Story, The Story, posso chiamarti Fabrizio, perché non ce la faccio pronunciare il tuo cognome, non so neanche se lo pronuncio giusto, quindi Fabrizio. Ci presenta un disegno veramente bello, graffiante, halloweeniano, come serve a questa storia. Guarda che bella questa scena, tra l'altro. Si è molto scuro, sto giro, ma avete capito cosa intendo. Hacker ci porta in una storia all in night, quindi tutta dedicata in una singola notte, in cui Dylan è protagonista consapevole e inconsapevole, in cui viene tirato in mezzo involontariamente. i tre ragazzini si somigliano un po' a, come si chiamava, la Final Destination, cioè nel senso cose di poco conto che si trasformano in qualcos'altro. Dolcetto, scherzetto. Lo scherzetto finisce male. C'è un motivo, il motivo è un po' banalotto per certi versi, ed è molto culoso per Dylan Dogg, però è interessante, se si sposa bene, l'avrei vista bene anche sulla regolare di qualche anno fa, una storia del genere, quindi molto interessante. Personaggi ben caratterizzati, atmosfera bella, Hacker, senza inventare fondamentalmente grandi cose trascendentali, giocando con cliché e taglia i cuci di vari ed eventuali, confeziona una storia assolutamente leggibile nella fredda notte di Halloween. Ripeto, a me piacciono, tutte in una notte. Bella, davvero interessante. Andiamo avanti un pochetto. Andiamo avanti un pochetto. Arriviamo a pagina 101, dove abbiamo Riccardo Secchi e Giulio Camagni che ci portano a scoprire il nuovo mondo. E questa è una forse delle storie più strane, ecco. Cioè, ecco, questa è una di quelle storie che ti incolla alla pagina. Cioè, a me è piaciuta tantissimo. Soprattutto per la pazzia, il retrogusto, le cose che si sommano anche di sfondo, che poi dopo prendono un'altra piega. Dylan è un po' particolare, in alcuni punti sembra quasi abbozzato. È un Dylan molto semplice, ma non semplicistico. Cioè, sono disegni facili, per certi versi. Quasi a voler alleggerire il tono. Non so come spiegarlo. Non sono per niente brutti, anzi, ci sono le belle scene inquietanti, ma davvero pesanti. C'è un Dylan culoso, molto culoso, perché il come si ritrova invischiato nella soluzione è culo, fondamentalmente. Ma ci sta. Dylan ha sempre avuto questa fortuna intrinseca, altrimenti non si muovono le storie. Ma ci sta. È interessante anche quello. Il come si arriva. Le critiche sotto. Queste scene di panico, di guerriglia. Ma fatte bene. Confuse, ma chiare. Non so come spiegarmi. Interessante, ecco. Dylan, che si ritrova assolutamente in stretto contatto con quello che è la vicenda. Una vicenda che si dipana. Lui indaga, ma in realtà la soluzione gli capita a portata di mano. Cioè non è una soluzione che gli arriva ragionando. È più botta di culo. Ma c'è un granello del suo passato che si inserisce e permette la risoluzione. Non voglio scendere nei dettagli. Però dovete vedere che figata le scene qua di fiamme, di fuoco e fiamme. È una storia che assolutamente si lascia leggere. Il finale è un finale abbastanza agrodolce in un certo senso che mi piace. Che ha un suo perché. Chiude un cerchio di storia di fondo. Quindi è promosso al mille per mille. Quindi anche questa ottima storia, decente. Non la metterei tra le top 10 del mai uscita sull'Hallboy ma sicuramente è una storia che quando l'avete chiusa non vi pentite nel tempo che avete sprecato a leggere. Che avete messo a leggere. Sprecato no perché non ve lo danno indietro ma diciamo che non è il tempo che avete usato per leggerla. Bella. Interessante. L'ultima era quella su cui onestamente vedendo i nomi coinvolti mi ero un po' fatto delle pippe clamorose devo essere sincero. perché abbiamo la copiata femminile Maria Rita Poretto e Silvia Mericone soggetto sceneggiatura disegni armitano. Ormai penso che sia solo armitano. Armitano lo troviamo in gran forma con i suoi con le sue terribilezze oserei dire. Guardate che figata questi disegni. Cioè sono veramente incredibili. anche Block forse un po' troppo mascherone ma interessante inquietudine follia cioè c'è un po' di tutto guardate che belli i disegni espressivi Dylan che va a un funerale cioè anche la risata la risata il dolore nelle stesse tavole cioè incredibile Dylan espressivo cioè armitano fa un lavoro con il contro con Ones che la metà basta guardate che bella questa con Dylan e Gruccio che studiano il computer con i ritagli di giornale eccetera ma anche il Dylan che si ritrova davanti all'istituto bruciato l'inquietudine di queste tavole cioè bravissimo non ho parole per definirlo ecco l'unica cosa che mi ha dato veramente fastidio è stata questa scenetta finale col Dylan col culo di fuori bruciato perché mi ha un po' diciamo massacrato il pato cioè questa mi ha un po' buttato i marroni per terra perché fino a quella tavola lì la storia aveva tutt'altra piega però purtroppo o per fortuna mi sembra la più debole che la copiata femminile abbia scritto per Dylan Dog perché in realtà è un'indagine un po' di corsa un po' fortunosa un po' anche macchinosa per certi versi per arrivare poi a una resa dei conti classica e più classica non si può diciamo che si arriva a a un finale di un certo livello con un patos increscendo però mi sembra che tutto scorra troppo filoguidato a un certo punto sembra veramente che la trama vada su questo binario che deve arrivare lì telefonato in un certo senso il personaggio del cattivo è interessante ma davvero non vi do dettagli ve lo leggete però anche la tavola in cui Dylan si mette in gioco qui nella pagina 282 l'ultima vignetta in cui Dylan ha questo ripensamento insomma non lo so non mi ha convinto totalmente questa storia poi vabbè la scena finale con le chiappe di fuori non è che mi sembra un eccessivo smorzamento di tensione insomma contrariamente a quello che pensavo non ho un podio mi aspettavo con i nomi coinvolti onestamente senza non la togliere di strapparmi le vesti per la Poretto o Mericone eccetera e di essere soddisfatto per le altre due in realtà sono soddisfatto di tutte e tre è un malus è un bonus non lo so sono tre storie non rientra questo questo il boy nella top 5 dei migliori il boy mai usciti ce ne sono dei migliori non è brutto si lascia assolutamente leggere i suoi 7,90€ li vale tutti soprattutto l'ultima storia ha un po' un retrogusto di quel wannabe capolavoro che però non è stato è un pochino gratta le altre due sono storie assolutamente in linea con quel Dylan Dog che fu che che ci piace quel Dylan Dog l'ha scritto col sangue in storia del mostro eccetera quel tipo di Dylan Dog molto più per certi versi anche ingenuo e meno macchinoso ma entro certi limiti cioè interessante ecco quindi un old boy che vi consiglio 7,90€ per sto matrumbone non è una foglia di prezzo ovviamente se non siete fan o avete perso quel retrogusto di old boy e volete solo vedere dove vi porterà il nuovo corso eccetera eccetera lasciate stare se invece siete amanti Dylan Dog tutto tondo questa è sicuramente una delle pubblicazioni che non dovete lasciarvi scappare assolutamente perciò ragazzi old boy numero 37 eccolo qui possiamo chiamarlo l'alluminone ok eccolo qui l'alluminone è arrivato 3 storie 3 3 storie assolutamente leggibili godibili entertainment puro quel retrogusto di wannabe capolavoro mancato per l'ultima che però si assesta a livello delle altre due quindi buone storie eccoci qua a voi ciao e buona buona lettura ci vediamo il prossimo Halloween no non è vero ci vediamo molto prima perché è una pubblicazione quadrimestrale quindi tra 4 mesi ciao a tutti baci e abbracci ciao aps scusate mia moglie mi odia mi ha comprato il numero 400 di Landog io ho la variant il cartonato ma è là sulla mensola incartato lo vedrò il 28 di novembre che è il mio compleanno quindi è lì pronto ma dovrete aspettare che io lo scarti come regalo di compleanno agonia ciao a tutti alla prossima ci vediamo penso per Morgan Lost o per Mr. No vediamo ciao